Quindi Matteo, secondo te, quale cliente potrà trarre maggiore vantaggio da BI? Il cliente che può trarre maggiore vantaggio dal nuovo editor BI è il cliente che non si vuole occupare della parte di codice e della parte di stile, diciamo, della newsletter. Si vuole concentrare sul contenuto e vuole affidare a BI un perfetto HTML e un perfetto design di impatto.